è una delle domande che prima o poi il genere umano secondo me si è posta ed è scienza e fede vanno a braccetto che significa significa che la scienza ma anche la fede quindi il mondo della teologia diciamo così che vanno d'amore e d'accordo oppure c'è diciamo così uno scontro c'è diciamo così un diverbio c'è diciamo così una separazione netta tra le due discipline in questione ebbene oggi finalmente a te che mi stai guardando esimio o esimia utente di youtube ti dirò se effettivamente la scienza e la fede vanno a braccetto oppure se c'è un divario c'è diciamo così un ostacolo tra i due tra le due innanzitutto io considero la scienza una disciplina che studia eventi di tipo concreto e reale si fida su fatti concreti su fatti reali c'è tutto uno studio dietro e per arrivare dal punto di vista scientifico a per esempio avere un farmaco dietro c'è uno studio meticoloso per quanto riguarda l'organismo umano ma anche l'organismo animale se parliamo di un farmaco che viene dato ad un animale qui entriamo nel mondo di chi lavora appunto con gli animali quindi chi è un veterinario o una veterinaria quindi c'è uno studio accurato bisogna essere concreti nel mondo scientifico invece la fede il mondo teologico è una disciplina che indaga diciamo così i fenomeni metafisici i fenomeni che noi non possiamo vedere che noi non possiamo comprovare da un punto di vista concreto è diciamo così una disciplina che indaga fatti non concreti non reali ma astratti che noi non possiamo vedere non possiamo percepire ma che dal punto di vista meramente teologico meramente religioso esistono e come e chi è un credente cristiano cattolico oppure in un'altra religione si affida ciecamente totalmente a ciò che la propria religione va dicendo e quindi questa diciamo che è la definizione secondo la mia opinione di fede e di scienza di scienza e di fede e quindi sulla base di quelle che sono le due definizioni che poc'anzi vi ho rappresentato attraverso l'ausilio della mia viva voce pensate che ci possa essere che la scienza e la fede vadano a braccetto secondo voi punto interrogativo ebbene la risposta secondo me è no 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 e ancora no non è possibile trovare la scienza che va a braccetto che si sposa pienamente con la fede perché da un punto di vista forse sono due cose totalmente opposte una indaga va a comprovare fatti concreti fatti reali non fatti metafisici l'altra invece va ad indagare per quanto riguarda fatti diciamo così appunto una va a indagare appunto per fatti teologici quindi per fatti non concreti che è la fede l'altra invece indaga per fatti concreti reali e soprattutto in cui c'è dietro uno studio completo assiduo e totale e quindi mi riferisco in particolare quindi alla scienza invece la fede è qualcosa di utopico di teologico di teorico di diciamo così metafisico che non si può e non riesce ad essere visto quindi apprezzato e quindi ancora veduto detto da un punto di vista prettamente visivo oculistico bene quindi secondo me non possono e non andranno ma è a braccetto la fede con la scienza e la scienza quindi con la fede sono due cose diverse due cose separate due cose che sono una l'opposto dell'altra una sta agli antipodi dell'altra e quindi non ci può credo essere un punto di ritrovo tra scienza e fede se non che molte volte la scienza si scontra con la fede perché la fede dice esiste Dio Dio c'è Dio è in ogni dove Dio è presente in ogni situazione anche la più scomoda perché ci viene miracolosamente in aiuto ma invece lo scienziato o meglio chi lavora nell'ambito scientifico va contro la religione la fede la teologia dice ma se Dio c'è perché non lo vedo perché non da una mano agli altri perché non evita che ci siano le morti perché non evita che ci siano persone che perdono ogni giorno la vita e quindi che non ci sono più perché non evita che questa vita continui ad essere per molti ma non per tutti una valle di lacrime perché tutto ciò sono domande logiche sono domande che penso la scienza si vada a fare si vada quindi a porre si vada quindi a formulare a realizzare grazie a tutti in primis per l'ascolto in secundis per la visione del presente video e simi utenti di youtube io ho rappresentato quello che penso io Leandro Smelli di Roma ognuno chiaramente è libero di pensare ciò che vuole ognuno può dire no guarda la fede e la scienza vanno da mole d'accordo anzi ci sono molti punti di ritrovo ebbene io penso proprio di no io penso che sia la scienza che la fede non si possano mai mettere d'accordo non ci siano punti di ritrovo punti in cui sia fede che scienza possano andare eventualmente d'accordo e che ci siano soprattutto molte discrepanze sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista meramente teologico tra scienza e fede e tra fede e scienza grazie ancora a tutti il video termina qua dammi la tua opinione mi raccomando educatamente non insultare se vuoi scrivere un commento fallo pure ma abbasso l'insulto abbasso la critica distruttiva viva la critica educata costruttiva e soprattutto efficace